I medici e gli infermieri Novax, sospesi dalla professione fino a fine 2022, potrebbero rientrare al lavoro nel giro di pochi giorni. L'argomento è oggetto di discussione proprio in queste ore all'interno del Consiglio dei Ministri del nuovo governo Meloni alla luce della decadenza di tante regole anti-covid che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Il governo Draghi aveva infatti imposto il divieto di esercitare la professione sanitaria per i professionisti Novax fino al 31 dicembre. Il governo Meloni potrebbe anticipare il rientro di circa due mesi. Nelle Marche sono 150 i professionisti fra medici, infermieri, fisioterapisti e OS che potrebbero essere reintegrati. Di questi 82 sono i dipendenti ASUR sospesi dalle 5 aree vaste provinciali. All'ospedale di Pesero erano invece 33 i professionisti sospesi fra infermieri, OS e tecnici di laboratorio. Insomma si sta per voltare un'altra pagina su pandemia e Green Pass con l'ASUR Marche che attende solo la circolare utile a effettuare i reintegri.